Vi parlerò di come noi creiamo delle comunità di apprendimento, noi non creiamo delle aule ed erano le solite aule con gli studenti davanti che pigliavano appunti. Da noi la vita è completamente diversa, ce ne si accorge da primo weekend ed è un'avventura dello spirito, della psiche e del corpo. Di solito è un'avventura che porta un significativo sviluppo personale, già solo il corso, ma siccome noi siamo carogne, pretendiamo che i nostri allievi che diventano counselor siano anche delle persone che si sono guardate dentro, quindi saranno delle persone che si sono fatte un tot di analisi. Counseling con delle persone accreditate che devono essere supervisor o trainer o psicoterapia con uno psicoterapeuta, preferibilmente bioenergetico, visto l'approccio che andate a fare. Quindi vi parlerò un po' di questa creazione di una comunità di apprendimento. Poi è necessario illustrarvi il nostro metodo didattico, che è un metodo euristico che fa emergere i significati dall'esperienza diretta. è un segno, è un segno! Siccome ci sono tanti scoiatoli qua fuori, può darsi che qualche civetta sia venuta a fare la prima colazione? È vita insomma! Parleremo anche della specificità della nostra visione teorica. Per semplicità la gente fa riferimento a noi per bioenergetica. Ho le carte in regola, sono trainer, supervisore, sono stato direttore didattico della prima formazione a Milano e sono stato direttore didattico dell'ultima formazione del 2005. Poi basta insomma! quindi ho maturato anche una certa esperienza in questo campo. Infatti se leggerete gli articoli su Anima e Corpo troverete ancora degli articoli soprattutto di psicoterapia. Anche perché nel 98 non c'erano counselor con una cognizione abbastanza ampia da scrivere degli articoli che fosse un po' pregnanti. Anche gli articoli ho dato solo una sbirciata ma ho visto il primo in alto David Boadella per gli addetti ai lavori è un grosso nome David Boadella. Ha anche pubblicato un paio di libri in Italia. Se resterà tempo vi farò qualche accenno un po' alla storia del nostro istituto. Storia del nostro istituto perché insomma prima si chiamava istituto di bioenergetica Willem Reich inaugurato dalla figlia di Willem Reich che ha portato noi abbiamo portato in Italia la prima formazione in massaggio bioenergetico dolce, la prima formazione in analisi bioenergetica, la prima formazione in approccio io ero Gersiano. Me ne manca una, lo so che me ne manca una ma non mi viene. Poi mi verrà nel tempo parlando. Abbiamo fatto, io sono uno molto curioso e per questo mi sono fatto tanti anni di training. Un giorno mi sono preso la briga di sommarli, due li ho fatti contemporaneamente, quella in psicoterapia organismica e quella in analisi bioenergetica e sommando tutto quanto venivano poi 25 anni, per cui tanta roba insomma. Sono lento, non troppo intelligente, imparo attraverso l'esperienza. Ho bisogno di esperienza. Uno può scrivermi una clamorosa formula sul muro che mi spiega il sapore del cioccolato, io ho bisogno di mettermi una tavoletta in bocca. Allora lo capisco. E questo è proprio quello che faremo nella nostra formazione. Noi cerchiamo di creare non una classe ma una comunità di apprendimento. A quale scopo creare una comunità di apprendimento? Perché per la faccenda del cioccolato della formula non andremo a conoscere i tratti caratteriali solo dai libri. I libri ci servivano in un secondo tempo, il nostro e ovviamente quelli di Lowen, per riguardare le mappe e chiederci ho capito tutto, hanno spiegato bene, tutte queste cose. Per creare una comunità di apprendimento noi dobbiamo garantire alcune condizioni. Le persone devono essere disposte ad aprirsi con fiducia, perché questo possa accadere e le persone non devono sentirsi soggette a giudizio. Il non giudizio sarà una delle cose più difficili. Siamo cresciuti in una cultura nella quale il giudizio è tutto. Ci sono degli studi molto interessanti in questa direzione, ad esempio sul fatto che quasi tutti i bambini al di sotto dei sei anni sono molto al di sopra del cui medio. Dall'età scolare alla quinta elementare rientrano nella media. Prima avevano mille soluzioni geniali per ogni problema, dopo imparano che una e una sola è la risposta giusta. È il modo migliore di non espandere la conoscenza. C'è un neuroscienziato dell'Accademia dei lincei, però è di quelli che fanno gli scienziati e non... come si chiamano? Insomma quei tipi che vanno in televisione a parlare di scienza. Lui si chiama Lamberto Maffei, direttore della ricerca del CNR sulle neuroscienze e dice alcune cose molto interessanti. Ad esempio a tre anni abbiamo il picco massimo di neuroni. Per cui lui dice che quando una mamma porta il bambino dal pediatra non sa che quello che ha un cervello più attivo è il suo bambino, non il pediatra. E questa non è una piccola cosa. La nostra comunità di apprendimento appunto doveva basarsi sul non giudizio. Il non giudizio vi dicevo è difficilissimo. Ma non giudizio non significa che perdo la capacità di vedere che il muro è giallo e il pavimento è marrone. Perdo la capacità o meglio, metto sullo sfondo la capacità antica di dire, ma cazzo quello lì è vestito come me, quindi è uno giusto. Invece quell'altro ha la cravattina e uno sbagliato. Giri, frequentazioni, amicizie, cognizioni. Noi dividiamo quasi sempre la realtà in cose giuste e cose sbagliate. Voi non avete dei veri insegnanti. Avete delle persone che si siedono lì e condividono se stesse e la loro visione. Anche la famosa labioenergetica non esiste. C'è la mia, la sua, la sua. Ciascuno ha la sua perché passa poi attraverso la personalità di ciascuno. Quindi anche voi sarete tutti diversi pur essendo esposti alla stessa informazione. Perché il vostro sistema la filtrerà e se ne impossesserà in mondo diverso. È una delle poche cose su cui siamo un po' severi, creare le condizioni per la sicurezza. Sicurezza e non giudizio significa che se due che hanno appena avuto un'esperienza magari anche molto significativa nel corso si incontrano al bar, possono dire tutto quello che vogliono su di noi, sui tutor e sulla propria esperienza. Non parlare di una terza persona che non c'è. Questa regola comporta l'esclusione. Questo è il posto in cui terremo i nostri corsi. I nostri corsi sono di solito per 25 persone, più due tutor e il docente in aula. Qui dentro è vietato far male a chiunque, psicologicamente o fisicamente. Questa regola comporta l'esclusione. Naturalmente se per caso inciampo e do una spinta a uno, è una casualità. Ma ad esempio dovete diventare molto bravi quando faremo il feedback. Riuscire a porgere gli argomenti come dei counselor. Il processo comincia nella prima ora di presenza in questa stanza. Abbiamo anche ragionato molto su alcune cose. Le cose su cui abbiamo lavorato hanno molto a che fare con la circolazione dell'informazione. A noi, oltre a creare una comunità di apprendimento, cerchiamo di creare quello che in fisica si chiama un dominio di coerenza. Ci sono parecchi studi, specialmente da parte dei biofisici. Chi di voi ha voglia di andare a vedere in internet? Siamo stati molto intimi con un biofisico importante che è Emilio del Giudice, che potete trovare da mille parti, alcune presenze anche nelle nostre conferenze, che tra l'altro ha vinto il premio per gli Ugin, per la biofisica, che è l'equivalente del Nobel, è il Nobel dei biofisici. I biofisici ne hanno uno, i matematici un altro e via dicendo. Creare un dominio di coerenza significa che le persone nel gruppo, nel gruppo classe, dobbiamo facilitarle ad essere sempre più aperte, sempre più aperte. Diceva Emilio del Giudice, perché la umanità si realizzi, deve esserci risuonanza. Se ho paura dell'altro, come posso risuonare con lui? Se temo il giudizio di un altro, come posso risuonare con lui? Devo sentirmi molto al sicuro per risuonare. Naturalmente dal primo incontro al trentesimo incontro ci sono degli ovvi cambiamenti. Perché qua dentro sarete esposti a esperienze particolarmente intense. Questo non è un corso in cui noi facciamo bla bla e voi pigliate appunti. Quella roba lì si chiama università. Alcune parti è importante descriverle, descrivervele adesso, perché sono davvero impegnative per tutti quanti. la struttura di personalità si realizza fissando delle modalità relazionali, di solito con le persone di attaccamento originarie. Chi ha avuto fortuna di avere una mamma e un papà e di essere poco affidato a istituzioni esterne o a facenti funzione, deve in qualche modo utilizzare i suoi circuiti, noi siamo stati davvero i primi a parlare di questo, circuiti psico-neuromuscolari. è un'unità. Dobbiamo usare tre parole perché non c'è una parola condivisa che renda conto di questo. Ogni volta che siamo di fronte a un dilemma psicologico, mentale o emozionale, si attiva una rete neuronale. Questa rete neuronale, i neuroscienziati la studiano soprattutto dentro la scatola cranica, per sé esatti nella neocorteccia, a me piace assimilare la neocorteccia alla corteccia degli alberi che è stato uno strato di vita viva che poi diventa uno strato di vita morta messo a protezione. Per cui la corteccia cristallizza una visione del mondo che prende corpo attraverso la relazione con i muscoli, ogni fibra muscolare è innervata. Tutti i dilemmi che non siamo riusciti a comprendere e a risolvere e per un bambino è molto difficile comprendere i perché di un adulto, specialmente se è un adulto non ottimale. tutti questi perché vengono gestiti dal sistema nervoso autonomo che si chiama autonomo perché con la volontà ci posso fare ben poco. La sorpresa è che qui dentro impariamo a farci un bel po' di cose con il sistema nervoso autonomo. Il sistema nervoso autonomo è il luogo di quella che Reich tantissimi anni fa chiamò armatura carattere muscolare. Altrimenti detta i modi congelati di un comportamento altrimenti normale. Se questi modi non fossero sempre uguali per cui reagisco a te come reagivo a mia mamma, reagisco a te come reagivo al mio padre, se non fossero così cristallizzati sarebbero comportamenti normali solo che io li generalizzo al mondo. Questo mi ci sono interrogato per tanti anni. Dopo un ventennio ho cominciato a trovare delle spiegazioni sulla realtà delle tribù. Noi siamo vissuti in tribù per quasi 200 mila anni. Tribù o piccoli gruppi sociali. Se andate fuori dalla cerchia delle muve ma anche dentro vedete queste famose case messe a quadrilateo sotto c'erano le stalle e i granai sopra le abitazioni e un numero di persone illimitato che creava la micro società di quel posto. Quindi quando imparavo a sintonizzarmi sui membri di questa micro società ero adatto a quel gruppo sociale. Adesso veniamo allevati da un genitore o da un caregiver e la nostra assorgente di informazione è virtuale cioè per definizione non reale. Se mi compare sullo schermo un panino non posso saziarmi con quel panino. Entreremo più nello specifico. Quindi creare un dominio di coerenza in cui tutti possono risuonare è un modo magnifico di apprendere attraverso il corpo dell'altro mentre neanche lo so che sto apprendendo. Se lui rilassa il petto il mio petto diventa un po' più rilassato. C'è una trasmissione subliminale di informazioni. Complicatino da spiegare adesso. In questo tipo di situazione creeremo queste idea di mamma bambino al bambino verrà somministrato lo stesso tipo di problematica trauma che quando non viene risolto dà luogo a quel tratto caratteriale. Questo lo assaggerete direttamente come vissuto corporeo che vuol dire sensoriale e emozionale. Sensoriale ed emozionale. Come passeremo cognitivo in parte succede quasi direttamente ma alla fine del lavoro in diadi c'è la condivisione. Quando tu mi hai guardato in quel modo mi sono sentito congelare. Là mettiamo una lavagna a fogli e viene fuori prima cosa congelamento. Ho sentito che mi si chiudeva la gola seconda cosa chiusa la gola sentimenti mi sentivo soffocare mi sentivo atterrita mi sentivo mi sentivo mi sentivo una volta che tutti si sono espressi l'insegnante in aula comincia ad escrivervi il tratto caratteriale e lo fa sulla base di esperienze appena vissute e appena condivise vostre direttamente vostre. C'è un ulteriore passo è importante conoscerlo sempre su base volontaria stampatelo chiaro sempre su base volontaria chi si è identificato in quel tratto caratteriale può offrirsi per una lettura corporea perché per quello che vi dicevo neuroni che informano muscoli che assumono un certo atteggiamento e lo mantengono restano iscritti nel corpo alcuni segni che sono diversi da un tratto all'altro tratto all'altro tratto non siamo meccanicisti questa è stata una delle più spiacevoli accuse mosse all'Owen che poi negli anni si era molto evoluto ci interessano poco i teatri caratteriali noi li assimiliamo alle note musicali o ai colori fondamentali con le stesse sette note potete comporre musica barocca una marcetta militare la vispa teresa o essere baglioni o vasco rossi cose diversissime da ciascuno secondo la sua personalità quindi se io sono un sol minore te sei un mi cercheremo anche di dialogare chissà che musica ne viene fuori molto spesso non comprendiamo le altre persone soltanto perché sono diverse da noi uno che è stato nostro collaboratore intelligentissimo un ero psichiatra mi disse una volta sai luciano io ero convinto che chi non era d'accordo con me o era stupido e aveva ragione di pensarlo lui è molto intelligente o era in mala fede e ha ragione di pensarlo lui era molto molto onesto poi ha capito uno vede il mondo in modo diverso perché lo vede da una prospettiva diversa questo è interessante perché ci unisce di nuovo la fisica quantistica forse avete visto finché ha vinto ottocento oscar è un film a mio avviso fatto malissimo sul multiverso il multiverso è una realtà il tuo universo è diverso dal suo universo è diverso dal suo universo punto primo perché tu sei il centro del tuo tu sei il centro del tuo e tu sei il centro del tuo anche quando sembra che non abbiamo molta autostima ma sono io che non ho molta autostima e in realtà questa è una ricchezza la fisica quantistica ci ha insegnato non si dà alcuna realtà oggettiva la visione del mondo è soggettiva anche quello tra anima e corpo se vedete la fisica quantistica di Bohr è la differenza tra onda e particella se lo guardo in un modo è una particella lo guardo in un altro è un'onda e così via un altro modo di vedere i teatri caratteriali è assimilarli ai colori fondamentali se avete una stampante a colori vedete che ci sono dentro la cartuccia rossa gialla e blu ma possono rappresentare qualsiasi disegno mappa e via dicendo ok naturalmente non è tanto naturale perché all'inizio non volevo questa cosa ma mi sono arreso all'evidenza purtroppo c'è ancora tanta gente adulti compresi che cerca di arrivare alla fine beccarsi il diploma facendo il meno possibile questa è la strategia più sbagliata che possiate adottare perché l'apprendimento dipende da quanto vi metterete in gioco abbiamo deciso però che volevamo anche dei counselor colti per cui mi pare che sono 5-6 testi fondamentali nel triennio che vi verranno dovete rispondere poi a dei test è importante sapere che nel nostro corso facendo quattro weekend specifici in cui insegna Monique in cui insegno io in cui insegna Marilinda mi pare ok in particolare quattro weekend specifici sulla teoria delle classi di bioenergetica potete avere anche questo diploma poi le altre cose le vedete in internet le chiedete nei colloqui le hanno chiarite qui di nuovo all'inizio del corso quando abbiamo fatto uno studio a cui ho partecipato anche tu Monique quello esone abbiamo fatto il primo studio sugli esercizi abbiamo chiamato S1 è venuto fuori esone noi abbiamo fatto avevamo 5 classi abbiamo fatto uno studio su una sessantina di soggetti per 10 volte abbiamo raccolto 600 item li abbiamo fatti mette in forma statistica da una persona esterna che non sa neanche chi gli ha ordinato il lavoro i risultati sono stati così clamorosi che mi vergognavo a pubblicarli in particolare mia figlia che stava studiando psicologia in quel periodo mi diceva no papà è impossibile no papà no voleva fare bella figura e non sputtanarsi con i suoi docenti in realtà ho dovuto studiarci più di un anno per dare a questo risultato una forma che potesse essere introduttiva e i risultati potessero essere capiti abbiamo dei risultati sullo stress che sono incredibili e noi non lavoriamo sullo stress per noi è un effetto collaterale la diminuzione dello stress noi lavoriamo su renderle persone più completamente se stesse rimuovendo i blocchi i blocchi che sono blocchi della respirazione che sono inibizioni al movimento mano a mano nel lavoro bioenergetico vengono ammorbiditi e danno luogo a nuove cognizioni questo è confermato dalla biologia dagli studi di epigenetica e dagli studi sul connettoma soprattutto di epigenetica cambiare è possibile a qualunque età e noi con il lavoro di pratica bioenergetica andiamo a costruire dei nuovi circuiti dei nuovi sentieri neuronali che rendano obsoleti i vecchi sentieri che siano più adatti ad incontrare gli altri invece che a difenderci perché questo è uno dei punti fondamentali incontrarsi invece che proteggersi iscriviti